Perché mi è finita una cuffia dentro i pantaloni, vabbè Eccoci qua in live, si riparte con Crash Dream Racing Ehi, sono entrato io, sono entrati tutti, dove entra prima? Ecco No, andate a fare il culo, io vi faccio compagnia Ma scusa, io ho comprato una ruota, ma ce ne sa un'altra al posto di quella prima Quindi non è proprio solo giornaliero Eh boh, io ho visto solo questa qua che c'è adesso, quella col vetrino davanti No, non c'è la Donbaki, ah si, la Donbaki, madonna, mi ha ricordato di essere la Donbaki Vabbè Attenzione non ti fa dire le R Io ho accontentato online Che significa sei a metà a metà? Allora 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 ma facciamo aspettiamo che finisce 7 noi ci uniamo io ho al primo livello dopo il primo boss ho fatto quello e me lo ho fermato perchè è rientrato stefano e abbiamo giocato a line ma che ho fatto solo la cosa solo per poter arrivare al boss e andare avanti non ho fatto tutte le cose non sono completista purtroppo ma io non ho platino proprio niente non so attivo da platino faccio solo quello che mi piace ma io ho platino solo quei giochi che il platino significa fare anche parti di storia che è proprio quella infatti nielo tomata e non mi ricordo che altro platinato ah final fantasy 13 lightning return e pochi altri perchè platinare significava scoprire parti di storia perchè ogni trofeo ti spiegava una determinata cosa l'antidale non l'ho fatto l'ho preso perchè era gratuito ma non l'ho ancora giocato eh non lo so perchè io ho fatto la stupidaggine perchè pensavo di non comprarmelo mai quindi mi sono visto tutto until down giocato da cui dove sul server e quindi alla fine l'ho preso solo perchè ho detto semmai un giorno c'è per voi di giocare ce l'ho lì da una parte tanto era gratis sul play store quindi anzi mi ho scoperto che sulla play ci stanno anche i tre final fantasy non ho mai giocato quindi devo facci un pensierino se è più ammigli o no il tre e il quattro e il cinque gli unici tre che non ho mai giocato perchè non sono riusciti a recuperarsi ai primi due io ce l'avevo per l'emulatore del nintendo advanced andiamo da dorian tutti io pure mostro da dorian non ho mai giocato non ho mai giocato non ho mai giocato i ho mai giocato come aiutiamo tutti uno a fare tutta la gara e poi tutti contro il Stefano e mi raccomando vota mappa io questo andavo bene voto questa arena di tini due volte sono arrivato quinto cazzo ah tutti i stazioni oxide un altro stazioni oxide no non c'ho la mia skin ragazzi non mi sono preso conto a questi cazzi sì infatti è perché sono quelli più equilibrati no dicela a tutti oh non so chi è ma non dice e niente io vi vedo tutti la gara però sono io scusa come ti volevo le va prima che prendevo l'altra cassa e mi vedo oh guardia ho preso la palla che cazzo ho schivato una cassa a culo nitro nooo tempo affonculo ma i primi quattro erano quattro grassi e quello è bello modo che è cambiato no non è niente ho schivato una cosa a culo per fortuna nooo dai io l'ho preso pure io ma perché io lascio le cose che mi colpiscano a me oh sefano davanti a me perché che cosa è successo ma stupere madonna ho preso pure la rossa fa un culo ma stupere c'è la cassa doida io scusate il senso ultimo oh settimo sesto per l'attimo ho visto uno ma a me qua sempre il turbo metano che non mi serve un cazzo ma che stanno le volte mi vedo quinto e poi subito dopo ottavo quarto no sesto vaffanculo sefa l'ultimo non ci credo domanda madre del dio tutti con la stessa skin di crash quasi quasi tutti ma nesta cuffia che senti chissoddio ciao come va che sto divento posso? come va felicissimo dai buona fortuna due uno via se parte sono stato primo per un millisecondo che bello sono quelle emozioni da poco no non ho saltato bene e vabbè preso uno prestario dai uno prestario uno degli altri no ho preso il muro in pieno niente ho provato non credo però che é butina vaffanculo ahah ahah eh Oh, missile, 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 uh, che culo, quarto, quarto, e solo 30 monete d'oro, quando arrivo l'ultimo nel V800 e le altre cose, non salto e via. Il telefono 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 oh sono sparite delle persone una sola dopo che ha visto me arriva due volte tra il quarto e il quinto ho detto no aspetta poi vede Stefano che arriva ultimo è proprio una cosa da da chiudere il gioco sono tigre atto davanti butti qua vediamo pure il ghett dio santo il tempo non mi lascia sta cazzo del nitro che non mi serve a niente e niente ma non frega dalla bomba oh scusate oh no e dai un'altra volta che cazzo è lo quarto è diventato settimo qualche merda vaffanculo è pure me no 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 quarto su no sesto vaffanculo no io niente di che sto giocando a crece sto perdendo anzi mostro pure arrivando quarto o quinto sesto oggi era pure il primo milano casuale come portato si vaffanculo l'idea aspetta se vaffanculo che pulizzo in sesto 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 Grazie a tutti. Ti capisco benissimo perché anch'io non ho giocato a NitroCart e non ne conosco nessuno, devo dire. No, io proprio non sapevo dell'esistenza di NitroCart, è quello il problema. L'ho scoperto adesso che è uscito questo. Un treno sopra la pista che facciamo noi. E dai a Stefano davanti a me. Ecco perché non vinceva prima, perché non ci stavo io dietro. Ma arrivi il primo. Ehi, Maria? Oddio il treno! Prendi la cassa. C'è l'ergi, cos'è? Quante me ne stanno arrivare, madonna santa! Ecco, poi la cassa è così. La cassa è l'ultimo, proprio così. No! Ho girato troppo presto, vaffanculo, ma te. Quanto cazzo ci mette per trovare nel coso? Ci mette per trovare nel coso? Allora, ok? Per trovare il turbo. dai e quinto e niente in mezzo alle casse bello quando ho fatto esplodere il passaggio e tu e tempo giustamente perchè stavo andando bene che ti pareva e chi mi ha colpito muovo muovo Tu lo sai che sei? E vaffanculo Guarda che devo usare il vodga Ma quanto cazzo dura il suo tempo? Ma io entro solo tu sei? Sono arrivato terzo io? Ma che è successo? Io sono arrivato terzo comunque Io sono arrivato terzo ragazzi Non lo vedete E io non c'ho più nessuno dei giocatori Ecco Io rivolto a Renatini perché lì andavo bene Bene E io non c'ho piùesse Io non c'ho più musла Grazie. Sago non scappa. Mi sono spento un tempo e salto. Scusate. 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 Ok. Mi sa che erano quelli degli altri, no? Ok. Sì. Ah, è buono. Vedo altre cose. Ok. Primo subito, poi dopo. Ottimo. Ok. 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 Se io avevo preso la cassa perchè non c'è la cassa? Ah. Io avevo preso quella story. Ok. Jack Sandberg? No. Comunque ho preso un'importante decisione. Che cosa? Il mio animale domestico. Che cosa? Voglio un cazzo di drago. Così che posso da fuoco a chi cazzo vuoi fare? Oh, so primo? Basta, la gara è finita qui ragazzi. No, basta. Ok, il culo mi sono passato. Boom. Comunque. 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 Che ne dici se adottiamo un drago? Che? Che ne dici se adottiamo un drago? Eh, se ti stai solo quello pure. Lo creiamo. Lo creiamo, come? De carta pesta alla Giovanni in bucciaccia. Oh, bomba nitro in aria. Mortaggi. E' perché ho battuto il boss, l'ho dovuto rifare un bel po' di poste. Un po' la sono parata a memoria. Dai, che all'ultimo giro, vedi come stare primi, diventerà essere ultimi eh. in aria. Eeeh Secondo Oh secondo a 3 secondi di antibiotico 3 millesimi Madonna che male il pollice Eeeh perché io ti avevo premuto X per il pollice e poi lo muovo e premio quadrato il cerchio Mi sta venendo una bolla d'acqua E domani bolla d'acqua Eeeh Eeeh E percanto se lavora domani cazzo quindi Oh bella questa Iiii per strada galattica Guida galattica però tu soppisti Eeeh tutti la eeeh ormai andate Oh Luca Brilli Eeeh Quanto sei d'incuorante con queste parole Vabbè Io so come cresce si guarda la bolla d'acqua Eeeh Io so come cresce si guarda la cosa e fa uuuuh Mamma mia che buro Ma giù è sto portale Sposta le due Quello sposta io Iiii Niente Che culo appena hanno finito di sparare col fuoco No Si è andato troppo presto Eeeh Ma che è successo Vabbè Due ne vedo Non posso si muove E si vola No Lì è stata la cassa Ma io vedo ancora le palle blu che vanno in giro Come mai E sono tre No due Ok Salta No No Ma ho preso l'ultima fiamma Mi ha impagliato ma volevo questa Prova così E volare La fiamma Levati Ok E vabbè Budga Si vola Ma ancora mi hai reso la tempo di nuovo Uh Ha rissato le due palle Che culo Erano affezionate No 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 Missile No Missile No Missile Tempo Sono cascato di sotto Un po' tutto Ed è lo terzo Moltacci Se lo vai Ce lo devo fa Ho saltato troppo Prima Ma ce l'ho fatta Lo stesso Eeeh Vabbè Madonna Sono quinto Ero terzo Vaffanculo E vabbè Perché sono due insieme Forse Dovete più Preso Uh Che buono Non vi ha fuoco A me però Non fuoco Buono No Sesto Come cazzo E' possibile Dove è sparito Quello lì Che mi stava Ah no Vabbè No Io ho fatto Giro 1 1.13 Giro 2 1.11 L'ho recuperato pure L'ultimo giro 1.22 Li mortacci Madonna Santa mi sta a bruciare il pollice Ma proviamo a fare la cosa Che avete detto voi La La battaglia Lo facciamo Me aiutate Me aiutate Me aiutate Me aiutate ma io pure, dovresti avermi forse, vabbè Dorian disponibile, mettiamo dentro Dorian, ma non dici niente che tutti dentro di te? Vedete che sei andato? Quindi niente più? Io vedo solo, io pure l'antibiotico di sotto, ok? Eh ma non lo vedo disponibile, io sono pure tra gli amici e non lo vedo disponibile. Bene, aspetta hai scoputo io dall'online e provo a rientrare. Ah ma io mi stai impallato, se faccio indietro mi devi far vedere. Sì, anch'io va. Vabbè appena uscito dai. Anzi, strano che va così fluido e così veloce i caricamenti. Vabbè aspetta che entro online e lo aggiungo direttamente, vediamo un attimo. Allora, eccolo qui, tuo fratello è in modo da disponibile, entro dentro la parte del fratello di Stefano, se lo vedete, è Kelware-LB. Aspetta allora, facciamo così, esco un attimo. Sì. No, in due soltanto stiamo, io... Si è impallato il mondo. Si è verificato un errore nelle seguenti applicazioni. Cresting Racing, vi ripeto lo strato in corso, ha crashato. Yeee! Scaldate i motori per una produzione... Ma io sei rientrato, almeno... Ma io sei rientrato, almeno. Ah, io sto di nuovo online e c'è sempre il fratello di Stefano disponibile. Vedo antibiotico non disponibile. Ok. Dai, e tutti e tre? Chi manca? Antibiotico. Piederebbe, ad esempio, un fratello di lavoro, un fratello di lavoro, un fratello di persone che si può fare hanno abbandonato. Eccolo, un fratello, un fratello di alimenti, un fratello di merco mi piace molto sui schiaccio e dueanki di alimenti, un fratello di manovimento, un fratello di sesso di protezione, un fratello di bere il fratello di battaglio, un fratello di milano. non risponde più volevamo ricordarlo così nell'ultima partita giocata a Crash Team Racing dopo aver debellato qualche infezione no no io no poi a te io fino a mezzanotte luna più mezzanotte che luna ma no niente ma vabbè vabbè io la volevo provare sempre per vedere com'era volevamo far gare e facciamo gare lo stesso Stefano se n'è andato e te se faceva la partita una gara classica e poi dopo staccava beh facciamola a due gare poi lui deve andare via facciamo le battaglie e poi via a parte che poi è il fratello di Stefano ma ci senta almeno a kelurlb vabbè vuoi uguale sempre eccolo qua vai Luca brilli parti non sa te no ah ci sente ok dai parti Luca ma scritta a me che ci sente don't worry don't worry vai start a una gara non sa te la fatta fra i miei quattro vabbè uguale non sa te no giustamente non sa neanche che dove cambiare la mappa vabbè dai dopo facciamo matchmaking tanto esigente quindi vabbè vabbè stavo troppo piano c'ho vdgnitro e nitro vai e proprio sulla NT vabbè tempo del cazzo tempo del cazzo tempo del cazzo preso un pieno dai ho preso non lanciate più infatti non l'hanno è quello il bello ma mi sa che è proprio il computer che l'ha lanciato come finirà fra 18 il computer non l'ho messo è passato vabbè quarto vabbè lo stesso Luca se puoi metti matchmaking adesso per andare pure con gli altri così ho Grazie a tutti. No, non l'hai rimesso. Luca, dimmi che almeno hai cambiato l'impostazione della mappa, dai. Niente. Io sono entrato dentro alla cosa di antibiotico. Ciao. È crashato, dai. Entrate dentro alla cosa mia o di antibiotico almeno. Non mi ricordo che stavo aggiunto, oggi stavo aggiunto fra gli amici. No, non ti soffri gli amici. Aspetta, te lo aggiungerlo. Infatti mi manchi di come qualcosa. Ok. Io vi vedo all'antipiatico e Luca vi vedo online. Ok, arrivo qua io. Ma che è il brutto colore che è così? È brutto? No, è parecchio. Com'è? Lasciamo perdere stasera? No, che è successo? Niente, io dopo avevo uscito dall'online. Complimenti, Joe. Crashando si impara, dai. Allora, entro un attimo l'antibiotico, almeno siamo tutti. Non mi fa entrare l'antibiotico. Neanche da giorni di Opa. Primo X mi fa solo della catena. Ma sicuro che adesso ci sta un bel po' di più di gente online, e quindi se stanno parlare, eh, perché durante il pomeriggio la gente esce, la sera invece... Accendiamo l'online. Allora amici vediamo chi c'è, disponibile antibiotica, ok ora vedo l'antibiotica che fa entrappa. Ecco Luca è riuscito, è riuscito Luca, niente, e non dovrebbe che... Siamo unito, dai, siamo tutti. Ho lasciato la nostra partita, alla tenera età di 95-24 anni, danno la notizia ai suoi compagni di squadra. Ancora... non c'è quanto mi piace la live russaggio Grazie. Mmm, si inizia. Dai, che bello che avete preso uno il fuoco e l'altro la posizione manda su. Che cazzo? Perché era aperta e presa e chiude quella cosa? Corciatroia. Scusa, Giovanni. È passato sopra. Eh. Non capiscono gli altri rispetto a me. Perché? Sì. Perché ho 10 mele. Non sto fallinando una curva. Oh, no. Ho, ho. Oh. Ho. 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 No, cazzo, mi ha fregato la cassa. Oh, che è successo? Passare nella sfera non l'ho presa. Quarto, ancora. Ok, adesso si inizia e progress. Adesso arrivo quasi sempre verso il quarto o il quinto. In comprensa mi sto affrontando il pollice rosso e altro il pollice verde. Casuale. Inizia l'ho. 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 Ma che è quella sottospecie di strisarx in miniatura là? Inizia l'ho. Inizia l'ho. Inizia l'ho. Inizia l'ho. tanto voi vi state ammazzando ora di voi io non ho preso una cassa di niente ma sono arrivato già sesso e vaffanculo mi hanno preso in aria come cazzo hanno fatto aria come cazzo un po' di merda questo che ho dato in niente guarda il cazzo dov'è curva ma dai preso in pieno si arrivo? TNT? no dai tempo di merda su perché quando sto in avanti mi ritaglio questo tempo fa in curva guarda che cazzo l'ho fatto perdere dai eh ci vuole da solo quello e va bene altro ma dai ma quante cose mi stanno a mirare ma scusa ah bene ecco da terzo al quarto dai non caddi tanto in basso pesa la cosa rossa grandissimo mi sono ritornato terzo mi sono ritornato ma affanculo non ho mandato l'ultima bomba ho preso la cassa a buffo ci arrivo in tempo attento la nitro salto no le mele le casse no e vabbè sempre questo e vabbè un'altra cosa niente da terzo al settimo porca merda ripeto questa palla vaffanculo che vabbè io ero terzo guarda su settimo per dio e sesto o da terzo si è arrivato sesto ho una fortuna assurda sfortuna dirai continuo dentro la mappa con il santo eh cosa è successo? ah ok mi ha pensato che pure voi poi ho visto che ancora c'erano i vostri noni quindi ho detto boh non mi sono imparato zio vi dici? un tema che già ce l'avevo messo tanto credi nel cuore dei go-kart che già è importante il compito riquetto che non mi è successo l'avoro una Burada c'è l'avoro voglia ma non mi hanno non mi ha semplicissimo eh lo so però è quello più emilibrato come pg oh sono destititi pure voi? aspetta che esco e riacchise è sicuro che non c'è niente che mi deve dire col mio futuro e magari potete ripetirlo e non avermelo detto eh siete ah no facciamo così ah non è un po' 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 parco coco dove ho fatto il mio vittoria insieme all'avversario con lo stesso tempo è tornato Iron Man va bene take a il che senti sal Grazie a tutti. 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 Amicici, scusate, ma stavolta la uso io al tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quinto. E' bene. Oh, accipicchia. E' bene. 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 Paolo. Dio santo. Terzo? Vediamo se il resto è terzo. Siii. E' bene. No ma io ti vedevo dietro. Lagga di merda. Ha lagghato tantissimo allora io ti vedevo dietro di me. No. Ah. Vabbè, no, però io devo proprio pari a me, eh, io devo pari a me, certo l'ho visto intorno al passato, poi l'ho visto poco giro di me, di 40 millisecondi, invece, stai più avanti tu, a vedere che mi lagga a me la cosa, allora. Poi con questo mi sento attraverso bene, dai, vedemolo di nuovo lui, è un tempio brutto però. Tempio di Tini, dai, tanto bene. Eh, tempio di Tini tutti, in grande. Io l'ho mai fatta, quindi, o meglio, se era del primo Crash Team Racing l'avrò fatta in passato, non l'ho mai fatta. Da dove? Audio. Ah, pure queste qua sono carine, dai, oh. Ah, pure queste qua sono carine. . Faltiamo, che non me la dire di tutta la mappa, vedo mentre gioco qui la mappa. 2, 1, via, eh, non vedi a cazzo, vai, 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 vai. U. Ma che era? No, questa casca è mia. Questa è scorciato io, ma sono andato giù. va bene luca mi sei davanti e mi rubi tutte le casse ogni volta vodka oh scusate no ma non no ma non Grazie a tutti No, ho preso la palla Forse lanciavo il turbo No Antibiotico scusa All'ultimo pure il salto turbo arriva terzo Stavolta si Stavolta si A millardi di secondi dai primi due No, ma dovrebbe colpire in teoria a tutti Se hai le mele a 10 Uno solo, il primo dovrebbe essere Se invece non hai le 10 mele Dovrebbe, avevo letto una cosa del genere velocemente Perché nonis? Cosa ho fatto? Ho tornato terzo dai Casuale Ma è nazista Tiger nazista Tiger militare Tiger proprio Ti piace più il 4 come il numero? Vabbè dai Pure il 3 Il giorno è nazista mia Intanto Ma da che io oggi ero sempre ultimo Puoi lanciare un Becher in avanti Tenendo L verso l'alto E premendo a cerchio Che cazzo è il Becher? Scusa Ah, ok Ti sti termini tecnici qua Voi dovete sapere che io con i nomi faccio a botte Per me sono tutti cosi, coso e cos'altro Chiedete a Stefano Oh ma io arrivo terzo, quarto Ma sempre dalle seconde file parto Ah, sì Ah sì Ah sì E' stato un esplorario eh della pata mi sono fermato proprio però non deve finire di sotto ma che è sta vista è pure cortissima no che cazzo dai ma perché cosa è successo per avermi fatto saltare a me e si parte budga che cazzo che mi tocca niente lo faccio per te arrivo quarto Nils questo è per te quarto a dieci secondi da Diokan se ti piareggiamo fra di noi è meglio almeno facciamo le viste quelle che ci dà un po' più di di cosi dorati cazzo qua a 20 arriviamo molto tutti i 30 giorni buonasera Luca se la penta dentro gianni buonasera 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 ma non ma però ma, vabbè è entrato dentro già, non ne è pronto, ho più entrato dentro già tanto accetto ma entrate io ci sto, antibiotico che ho visto, luca entrato Giorni è entrato ecco, ho entrato metto matchmaking se può fare o no, corsa privata ok, corsa privata gara bella lobby posizioni di gioco giri 3, modalità dei botti, mettiamo, vabbè, normale, media eh, questa la devo scegliere io che metto metto una di quelle che ci danno parecchi dindini alla fine ma andiamo su questa qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, proprio il primo, dai. Che adesso è l'ultimo? E già mi tirano a me? Dai, eh. Oh, per poco non mi viene salto. E se vola... Oh, si liscia. Si spera che si liscia di nuovo. Si spera che si liscia di nuovo. Non sto prendendo una cazzo di cassa, manca a pagare lavoro. E vabbè, proprio prima di qua, eh. Dai, l'hai preso. Budga! Minchia, per poco non prendevo... Madre del Dio, madre del Dio. No, Johnny, dove vai? Sono tanto bene primo da solo, che vuoi? A me piace stare da solo, eh. E va a fare ancora una bomba. Eh, sì, tanto ho preso una bomba in volo, quindi... Niente, ma non ho preso... Eh, niente! Per quella troia, nonno. Sì, vabbè. Il netro, che cazzo ci faccio contro chi mi sta davanti? Sì. Eh, eh. Tutte due bruciati, che ho visto là davanti. È un altro mese, siamo arrivati. Terzo. Terzo, ma fa un culo per due secondi, cazzo. T'ho preso qua, cazzo di TNT. Faccio vinta, finisca qua la gara, neanche finito di dire. No, buonanotte, mister, questa è per la compagnia. Ma quali erano le gare che facevamo oggi, che ci davano 500 cosi? Quali erano? Esatto. Voi hai scelto una pista a caso vabbè non c'è il cosa a caso però io non conoscendole ho messo una ma donna che un mappo scelto qua c'è una palla eccola e vabbè l'ultima volta se devo scegliere una mappa ditemi di farmi cazzi mia però vabbè proprio qua vai buddga ti friggerò ti brucio il cuore e buddga finchia sta pista ho saltato la palla e ho scrivato pure un missile no tu no no ma chi è? allora no io no però a me non mi ha dato effetto per fortuna mi ha solo dato un po' stordito ma niente di che oh bomba l'ho schivata non so e daio di nuovo ma che è? ma è la sfera? secondo niente bigo e niente accio come dicevano è stato io secondo mi piace mi piace io primo allora vediamo un'altra squadra ma perché c'erano quelle cose che la vi ho presa un'altra a caso oggi si davano 400 cosi 800 600 160 io comunque mi faccio questa e poi mi fermo mi sa che è l'ultimo su tutte le nitro cars allora ah questa è quella bellissima l'abbiamo fatto oggi ma che cosa mi ha schiacciato non ho visto non ho visto che vabbè il tempo quando ho sparato una nooo come prima che di prima e mai più com'era e vabbè e vabbè due volte però quindi so io sì ci sono pure i botte sono un bot forti e vabbè dopo di questa tutti lasciarono la partita poi almeno arrivo qui si dai pure il tempo ho preso no 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 ho preso il tempo inteso ho preso come cazzo si chiama la bomboletta rossa che te dà il coso di sta per arrivare qualcuno a farvi compagnia dai ho superato Luca Luca mi ha tirato un razzo e io ho il voodga però sono passato mezzo alle gasse non ti pareva che mi doveva colpire non ti pareva Luca ti devo superare a tutti i costi che cosa ho fatto? ho scorsato via ho scorsato via ma chi è? ragazzi vi saluto è stato un piacere tanto raggarvi tantissimo buonanotte a tutti ciao va buon ragazzone finiamo qua ho il pollice distrutto mi fermo prima di distruggermelo di tutto e ci vediamo domani sera con o Final Fantasy 8 o con Sira che porta qualcosa vediamo un attimo ciao 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 ciao